Io credo che l'introduzione del salario minimo legale non sia la strada più efficace, per una ragione semplice, perché io temo il rischio che la fissazione per legge di un salario minimo diventi non una tutela aggiuntiva rispetto a quelle garantite dalla contrattazione collettiva, ma una tutela sostitutiva e questo, mi dispiace, per come la vedo io, finirebbe per fare un altro grande favore alle grandi concentrazioni economiche che hanno come obiettivo quello di rivedere a ribasso i diritti dei lavoratori. Il segretario Landini ha affermato nella sua relazione che il sindacato deve aprirsi e allargare la rappresentanza a tutte le forme di lavoro subordinato, autonomo, che bisogna affermare in sostanza il principio stesso lavoro, stessi diritti. Sono d'accordo, sono d'accordo da sempre. Da sempre penso che il lavoro sia lavoro a prescindere dal contratto, che non ci debbano essere lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, lavoratori che meritano la tutela sindacale e altri che invece non la merita. E allora forse uno dei grandi temi sui quali possiamo provare a lavorare insieme è un sistema di ammortizzatori sociali universale che tuteli nello stesso modo chi perde il posto di lavoro sia questo dipendente, autonomo o cosiddetto atipico. Cioè dare a tutti le migliori garanzie possibili ma che siano le stesse. Non costruire una cittadella di garantiti impermeabile a che rimane fuori. È certamente compito di qualsiasi governo assumersi la responsabilità di operare delle scelte. Ed è quello che noi abbiamo tentato di fare, quello che cerchiamo di fare ogni giorno e quello che abbiamo ad esempio tentato di fare nonostante le critiche anche del sindacato quando abbiamo deciso quella che io considero una doverosa abolizione del reddito di cittadinanza per chi è in grado di lavorare. Voglio rispondere al segretario Landini che nella sua relazione chiedeva provocatoriamente che gli hanno fatto i poveri al governo. Non ci hanno fatto niente. È esattamente per questo che non vogliamo mantenerli nella loro condizione di povertà come purtroppo ha fatto il reddito di cittadinanza. È per questo che vogliamo offrire loro la possibilità di uscire da quella condizione. E l'unico modo che io conosco per uscire da quella condizione è il lavoro. Voglio farla anche io una domanda. Atteso che neanche nell'idea iniziale del Movimento 5 Stelle il reddito di cittadinanza era stato previsto come una specie di vitalizio. Era previsto come uno strumento transitorio. C'è gente che l'ha preso per tre anni e che oggi si ritrova esattamente alla condizione di partenza. La domanda che ho da fare è un ragazzo di 30 anni che prende il reddito di cittadinanza per tre anni senza per questo e attraverso questo strumento transitorio migliorare la sua condizione formativa, migliorare la sua condizione di lavoro. A 33 anni, dopo tre anni, è più ricco o è più povero?